Siamo in prossimità della festa di San Giuseppe, la fiera è già arrivata, oggi arrivano le zeppole con Francesco. Mi dici la ricetta? Allora, questa si chiama pasta bigna oppure pasta choux e viene composta con, si fa con un litro d'acqua e 500 grammi di burro circa. Il burro viene fatto sciogliere nell'acqua, poi viene aggiunta la farina e il burro. Le uova si aggiungono dopo che l'impasto diventa compatto, 15-18 circa. Questa ricetta per quante zeppole è più o meno? Saranno per una trentina o quarantina di zeppole. Poi nelle zeppole va messa la crema pasticcera, la crema pasticcera invece è fatta? Allora, un litro di latte e 250 grammi di zucchero nel latte, deve arrivare alla bollitura. e l'altra metà dello zucchero viene aggiunta alla farina e ai setorli d'uovo. Questa è la preparazione delle zeppole che possono essere fatte, ricordiamo, fritte o al forno? Andiamo a vedere. Marco e Andrea stanno mettendo la crema pasticcera, quindi quelle sono al forno? Sì. Che stai mettendo? La crema pasticcera. Ma va solo all'esterno o anche all'interno? No, anche all'interno. Poi la possiamo decorare con amarena e zucchero a bello. E sono pronti. Quella fritta la mettiamo solo di fuori, all'esterno. La crema solo all'esterno perché già è pesante di suo, vero? Sì. Allora, Sergio lo conosciamo già, oggi conosciamo Valentino che è un po' timido, dobbiamo dire. Sergio, allora oggi abbiamo fatto le zeppole fritte e al forno. Tu quale consigli? Quelle fritte perché è tradizione di quelle fritte e quindi sono un po' pesante, però sono più buone. Una volta all'anno nella festività di San Giuseppe si può... Possiamo fare questo peccato. Va bene. Io ringrazio i ragazzi e io, ragazzi, lo devo assaggiare. È d'obbligo. Buon San Giuseppe a tutti. Auguri. Grazie.